Ciao carissimi e carissime benvenuti su Goldie Unicorn Art Tarocchi. Allora carissimi, oggi voglio andare a vedere chi ti cerca presto e perché. Naturalmente guardate questo video per ispirarvi nella vostra manifestazione. Allora, io vado subito a vedere il motivo per cui questa persona ti cerca. Poi andremo a vedere anche chi è. Allora, vediamo un po'. Lasciamole così come vengono. Allora, tagliamo. Beh, qualcuno che ti cerca con una bella allegria. Cioè l'idea è ti cerco perché l'idea di vederti, qui abbiamo la carta dell'allegria, mi fa molto piacere. Quindi ti cerca con gioia questa persona. Allora, vediamo un po'. Quindi il motivo è che è spinto dalla voglia di vederti e guardate la riunione. Quindi qualcuno che vuole riunirsi a te, se invece tu sei single, è qualcuno che ti ha vista, in qualche modo ti conosce. O comunque c'è nell'aria l'idea di avere un incontro con te. Perché qui abbiamo una persona che secondo me si avvicina anche, come fa vedere questa carta, con una certa eleganza, con una certa enfasi anche. Quindi, allegria, il motivo, già abbiamo questo. Una persona che vuole vederti, che vuole vederti, che si riunisce. Una persona che, devo dire, forse nella vita non è sempre stata chiara e limpida. Quindi qui abbiamo proprio la carta del mercante, quindi non è sempre stata così. Adesso è motivato nel modo giusto, scopriremo perché. Però non è stato sempre chiaro, devo dire, forse non è stato chiaro con te, forse la sua personalità non è stata chiara. Magari gli è successo qualcosa per cui si è schiarito dentro. Infatti ha avuto, a un certo punto, era una persona poco chiara questa. Che tu sia singolo, che tu stia aspettando qualcuno, qui abbiamo una persona che era poco chiara. Ma a un certo punto nella vita ha avuto proprio un dispiacere. Quindi potrebbero essere arrivate delle cattive notizie, ecco. Però per te forse questo è stato un bene. Quindi ha avuto un suo dispiacere questa persona. E secondo me la sensazione è che abbia vissuto tanto in un momento difficile. lungamente mi viene da dire, perché queste due carte insieme mi fanno proprio dire questo. E a un certo punto ha avuto bisogno proprio di rialzarsi, di pensare ad altro, di sollevarsi. Ecco, si è sentito solo, infatti. Tutto questo, secondo me, come vi dicevo, è lungo tempo che questa persona non sta bene. Può essere una persona che si è allontanata da voi, oppure può essere una persona, se non la conoscete, le carte vi raccontano la sua storia e vi dicono, guarda, che questa è una persona che è stata lungamente in sofferenza. Quindi adesso ha proprio voglia di cambiare la sua vita. Vediamo un po' di aggiungerci, metto un attimo via queste, di aggiungerci le carte di Osho per vedere un po' come sta adesso. Perché l'intenzione è quella di venire appunto con allegria. Forse voi siete, diciamo, la sua speranza di rinnovamento, mi viene da dire. Vediamo un po' qui le carte di Osho, che cosa ci dicono. Allora, è infatti, ha proprio bisogno di divertimento. Quindi una persona che, secondo me, ha avuto, magari ha avuto anche dei problemi che non riguardano la coppia. Potrebbe aver avuto una vita difficile, riferendomi a questo dispiacere, questo lungo dispiacere, mi viene da dire. Potrebbe aver avuto qualche notizia, magari può aver avuto delle notizie di lavoro che non sono state carine. Oppure può essere una persona che si è allontanata da voi e poi si è resa conto che non funzionava la lontananza con voi. Oppure, se siete single, potrebbe essere una persona che, secondo me, viene, arriva da un lungo momento difficile e quindi ha bisogno di allegria, divertimento. Forse voi siete la sua musa ispiratrice. Quindi direi che, siccome ho chiesto se questa persona sarebbe stata meglio, qui mi dicono che ha fatto un completamento, che questo brutto periodo è stato proprio per un completamento della sua personalità. Ma come vedete, adesso questa persona è rinata e vuole rinascere. Anzi, mi viene da dire che vuole rinascere questa persona e voi siete la persona con cui pensa di rinascere. Ecco, questo è un suo, diciamo, una sua idea, un suo pensiero, un suo desiderio. Quindi andiamo proprio a vedere che cosa vuole da te, questa persona. Andiamo un po' a vedere cosa vuole da te. Quindi, tu sei la sua ispirazione. Però, che cosa vuole da te? Vuole te, prima di tutto. Vuole anche, secondo me, allontanarsi da questa situazione pesante. Può essere anche, mi viene da dire, siccome siete in tanti, quindi cerco di dare più spiegazioni, può essere anche che questa persona aveva un legame, un altro legame che non siete voi, e che una delle tante cose potrebbe essere il lavoro, come vi ho detto prima, ma potrebbe anche essere, che so, una persona che aveva un legame, una moglie, una fidanzata, con cui non vuole più stare. Ecco, quindi potrebbe anche essere una persona che si vuole separare, e quindi, e che ha sofferto molto in questa ultima relazione. Quindi questo vale sia perché, se voi conoscete questa persona, sia che non la conosciate. Ecco, insomma, comunque ha proprio voglia di, di vedervi. Ecco, perché qui abbiamo chiesto cosa vuole da te. Vuole te, vuole chiudere una situazione del passato, che potrebbe essere anche, appunto, una persona, ma potrebbe anche essere, mi viene da dire, per molti una madre, potrebbe essere questa persona qui, potrebbe essere anche la persona che gli ha causato, diciamo, questa sofferenza, oppure potreste essere voi, che vi siete separati da questa persona, e gli avete causato questa sofferenza. In ogni modo, le carte dicono qui, questa persona comunque vuole vederti, perché il bel vedere rappresenta proprio la persona, qualcuno che si fa vivo, quindi la notizia. Tu avrai la notizia di una persona, quindi questa persona, oppure avrai la notizia che conoscerai questa persona, se non la conosci. In ogni modo, qui c'è qualcuno che arriva nella tua vita, e lo metto qui, perché qui l'energia, diciamo, è questa energia trasformativa, ma qui abbiamo proprio l'energia, diciamo, di una persona che vuole ricominciare a vivere, vuole ricominciare a stare bene. Quindi che cosa vuole da te? Vederti? Eh, vedi, qui ti arriva un messaggio. Questo messaggio ti arriva, la lettera, no? O direttamente da questa persona, oppure tramite un'altra persona. Potrebbe anche essere questa, perché le carte hanno diversi strati di lettura, no? Quindi, secondo me, se tu stai aspettando una notizia, ti arriva, ti arriva diretta, oppure ti arriva da un'amicizia, per esempio, o da una conoscenza in comune, che ti dice che, in qualche modo, questa persona ti vuole vedere, o rivedere se tu la conosci già, eh? Quindi, ti vuole vedere. Questo lo sappiamo, l'abbiamo capito. Adesso io voglio anche vedere, però, un po' come starà questa persona, no? Come starà, anche nel rivederti, diciamo, no? Questa è la sua idea, no? Cioè, voglio capire bene. Qui abbiamo la voglia di rinascita, ma io voglio vedere, poi, se questa voglia di rinascita viene appagata, perché tu sei, mi viene da dire, una scusa per rinascere. Quindi, questa persona pensa che tu sei una personalità, per cui viene da te, perché sente che tu potrai aiutarlo, che non c'è niente di male, oppure viene mossa, questa persona, da un sentimento più profondo, da un'energia più profonda. Voglio approfondirlo bene, questo, eh? Allora, tagliamo. Beh, gli arrivano a questa persona le tue vibrazioni, le tue energie, perché questa è la carta anche della ricettività, no? Come dire, io vengo da te, perché so che con te, effettivamente, starò meglio, ma so anche che qualcosa mi fa capire che anche tu vuoi questo, in qualche modo, no? È una persona, in questo momento, molto ricettiva le tue energie. È come se sapesse, da qualche parte di sé, che tu sei disponibile. Quindi, la vera ragione per cui viene, mettiamocene un'altra, è che se questa persona, per esempio, ha avuto un gioco di potere nella sua vita o con te, perché qui, secondo me, questa sofferenza arriva anche di un uso del potere alle volte non sempre corretto, quindi una persona che può essersi trovata in una dinamica molto forte o sul lavoro o con un'altra persona o con te nel passato. Invece, qui abbiamo la persona che viene spinta da te perché vuole avere un corretto uso del potere, quindi, è come dire, se prima ero autoritario, adesso voglio diventare autorevole, che è tutta un'altra cosa. quindi viene spinta da te proprio motivata da qualcosa di profondo, qualcosa che vuole rimediare nella sua vita un comportamento scorretto questa persona, è come se la sofferenza per lungo tempo avuta da questa persona fosse il movente, la causa della sua rinascita, quindi questa sofferenza è stata assolutamente essenziale, come se la vita avesse messo da queste carte un po' in ginocchio questa persona, ma questa persona ha toccato un po' il fondo e ha capito che aveva delle maschere anche, mi viene da dire, perché quando c'è molto uso del potere sull'altro o nei rapporti con gli altri è sempre una lotta interiore dell'ego alla fine che vuole prevalere, quindi mi viene da dire che questa persona ha capito che era in balia del suo stesso ego, dei suoi stessi pensieri, quindi secondo me il vero motivo per cui viene è che non vuole più giochi appunto di potere, ma giochi di semplicità, di divertimento, la risata spesso spezza diciamo le dinamiche, le pesantezze, quindi andiamo un po' a vedere di più al di là di quello che abbiamo appena visto che tipo di persona è, vediamo un po' con queste carte, questa è uscita subito, quindi la mettiamo, vediamo un po' che tipo di persona è, che segno può essere, anche se come dico sempre i segni zodiacali non sono determinanti, allora vediamo un po', tagliamo, mettiamo qui il mazzo, allora, beh, è una persona come diceva questa carta che ha un uso buono del potere, quindi questa sofferenza è stata un grande insegnamento, quindi viene con un certo equilibrio e siccome viene con la voglia di divertimento come abbiamo visto qui, si può dire che viene anche con un equilibrio interiore che tu percepisci subito, anche se sei, se lo conosci già naturalmente, se invece sei single secondo me l'apparenza che ti dà questa persona è proprio di una persona equilibrata che il potere lo usa come forza, no, perché questa carta ha anche Marte, no, quindi Marte è anche diciamo se è ben utilizzato è anche la forza che ti fa andare avanti, no, quindi è, diciamo, la forza usata nel modo giusto. Qui abbiamo, incominciamo ad avere un segno zodiacale, il segno del leone, quindi potrebbe essere un segno del leone, un ascendente leone, può avere la sua luna o la sua venere in leone, oppure per chi conosce un po' l'astrologia potrebbe avere uno stellium, quindi un agglomerato di pianeti proprio magari in leone, quindi andiamo a vedere sempre che persona è, beh, è una persona che oggi come oggi viene il re di coppe, quindi sa amare assolutamente, quindi ha trovato davvero l'equilibrio, quindi chi ti cerca presto, ti cerca presto una persona che si vuole divertire perché si è liberata da pesi, da pesi che veramente si portava dietro da troppo tempo, qui abbiamo quindi una persona che ti vuole offrire naturalmente la sua coppa e poi anche una relazione qui col sole, quindi diciamo che cosa, diciamo che persona è oggi, è una persona ripulita da tante cose che abbiamo visto, una persona ripulita con la voglia di essere chiara, prima vi ricordate era venuto il mercante quindi l'ambiguità una persona che non sempre si mostrava aperta, che non sempre si mostrava sincera, ma forse la sua non sincerità era dovuta anche a delle difficoltà in cui si era messo nella vita, no? Quindi oggi abbiamo la persona che vuole venire col divertimento, ma il divertimento secondo me è anche la gioia di vivere, la gioia di vederti, quindi poi abbiamo qui il giudizio, quindi una persona che appunto non solo ha messo la testa a posto mi viene da dire, ha portato equilibrio nella sua vita, perché abbiamo già visto la rinascita, qui era venuta la rinascita, però qui abbiamo anche proprio una persona che vuole essere costante nel chiamarti, costante nel stare con te, è proprio come se avesse messo il giudizio se vogliamo vederla, comunque il giudizio potrebbero anche essere le notizie, notizie dal cielo, tu dovresti sentire la vibrazione diciamo di questa persona, comunque come era venuto prima nell'oracolo, poi naturalmente una persona che rimane diciamo col suo bel caratterino, non è che il suo caratterino non ci sia più, c'è sempre, però è regolato adesso secondo me dalla pazienza, dalla consapevolezza, vediamo ancora un po' di carte che voglio darvi ancora un po' di segni, perché questa è una stesa un po' misteriosa, chi ti cerca presto, allora qui abbiamo il segno dei pesci, naturalmente questa carta rappresenta anche la voglia che ha di amarti, quindi mi viene proprio da dirti che questa persona si innamorerà o si rinnamorerà di te o forse se non lo è mai stata perché aveva troppo dolore nel cuore si innamora adesso diciamo, no? Quindi questa secondo me sei proprio, rappresenta proprio tu l'amore che ha per te come ti vede, inoltre questa carta è dominata anche da Giove, dal simbolo di Giove che rappresenta comunque la fortuna la grande fortuna Giove è un grande benefico quindi mi viene proprio da dire che questa persona si sente proprio positiva con te poi abbiamo di nuovo qui la ruota di fortuna quindi è una fortuna stare con te è una fortuna se tu gli dirai di sì abbiamo di nuovo Giove beh possiamo nominare anche il sagittario a questo punto possiamo nominare anche il cancro perché Giove in esaltazione in cancro quindi possiamo nominare tranquillamente questi due segni questa persona si sentirà fortunata davvero ad averti incontrata cosa che prima magari non era così prima non era così perché qui si ricorda e secondo me ti racconterà anche le sue sofferenze passate comunque qui abbiamo i gemelli anche poi naturalmente viene secondo me questa persona ecco qui abbiamo di nuovo la luna e il cancro viene la luna può rappresentare anche l'inconscio può rappresentare anche la madre in astrologia naturalmente forse questa persona con cui ho avuto problemi di cui abbiamo visto prima quindi comunque senz'altro ti viene verso di te consentimento allora secondo me è la personalità di questa persona è una parte con un suo bel caratterino un pochino corazzata mi viene da dire ma una parte di lui è molto sensibile è una persona mi viene da dire che quando tu gli hai offerto la coppa dell'amore o le altre persone nella vita gli hanno offerto le coppe dell'amore non sempre le ha sapute prendere perché secondo me questo dolore che ha avuto questa persona secondo me di sottofondo nella sua vita c'è sempre un po' stato mi viene proprio da dire questo ma comunque vedrai che questa volta l'equilibrio c'è perché questa persona secondo me ha raggiunto l'equilibrio naturalmente qui abbiamo anche il segno della bilancia che rappresenta anche l'equilibrio quindi secondo me questa persona davvero viene da te con un senso di equilibrio molto molto realistico ecco e quindi visto anche gli arcani maggiori che sono venuti prima secondo me questa persona fa proprio ti dirà proprio delle cose concrete farà delle cose concrete con te ti spiegherà che aveva forse questo dolore che l'ha un po' sovrastato in tutta la vita che forse prima non aveva questa grande capacità di amare che invece adesso ha quindi secondo me queste lotte che ha avuto questa persona qui abbiamo di nuovo il segno del leone ma abbiamo anche Saturno che ci può ricordare no ci può ricordare Saturno è il pianeta del capricorno quindi abbiamo anche il capricorno questa persona comunque ha lottato tanto nella sua vita ora magari tu che guardi dici ho lottato anch'io tanto certo però adesso noi ci stiamo concentrando su questa persona che ti cerca presto è perché allora un po' di segni ve li ho dati ricordatevi che non sono determinanti però adesso io voglio prendervi anche per un consiglio un suggerimento dall'Arcangelo Uriel quindi cosa vi vuole dire l'Arcangelo Uriel per quanto riguarda questa persona che viene da voi e che si dimostra così pratica così concreta così realistica che cosa vuole dire Uriel allora tagliamo vediamo eh allora Uriel ti dice secondo me di non confondere quello che è stato il passato di questa persona e quello che è il presente perché c'è stato un vero cambiamento qui ti dice che anche la tua forza interiore sarà determinante eh in questo momento quindi ascolta molto te stessa o te stesso se ti fidi di questa persona che arriva fai bene perché se dentro di te il tuo cuore ti dice di fidarti è giusto però non farti prendere appunto dal caos di quello che può essere successo prima qui ti dice rimani concentrato su te stesso se non perdere di vista mai il tuo sentire perché così farei entrare il nuovo cioè questa nuova persona se sei singolo o ritornare questa persona cioè senza però ricordare appunto troppo il passato attivati perché la fortuna questo è un buon momento la fortuna è dalla tua parte quindi è il momento in cui gli eventi sono sincronici alle volte i portali si aprono poi si chiudono quindi in questo momento secondo me gli eventi che stai per manifestare nella tua vita sono sincronici quindi una serie di sincronicità ti farà portare a te questa persona ecco quindi ci saranno proprio degli eventi per cui ti accorgerai che tutto andrà come deve essere che tutto è andato come doveva essere quindi carissimi io vi dico ancora Uriel vi vuole ancora dire di non confondere quindi il prima e il dopo come vi ha già detto ma neanche la direzione che prenderete cioè se questa persona secondo me mostrasse ancora un po' di carattere un po' particolare non pensate ah sei stato così e quindi sarai così ecco non confondete la direzione perché come vi hanno detto le carte la vostra direzione dove potreste andare è veramente una direzione di equilibrio come abbiamo ben visto di gioia e di divertimento quindi potreste davvero sorridere alla vita e vivere la vostra storia con entusiasmo perché tu rimani sempre in contatto col tuo cuore naturalmente fatti sempre guidare dal tuo cuore quindi il tuo cuore intuisce sempre dove va il benessere quindi la mente invece confonde quindi attenzione se tu ascolti il tuo cuore saprai cosa fare con questa persona se tu ascolti la tua mente può darsi che la mente ti confonda riportandoti un po' nel passato nel vostro passato o nel tuo passato o nel passato di questa persona quindi carissimi e carissime io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto un abbraccio a tutti ciao ciao